Esplorare i misteri per raccontare la scienza è la missione del CIPAC, Comitato Italiano per il Controllo delle Affermazioni sulle Pseudoscienze, che promuove l'indagine scientifica contro stregoni, bufale e fake news. Dal 29 settembre al 1 ottobre Cesena ospita il CICAP Fest ed è Piero Angela, il padre nobile del CICAP, ad invitare tutti all'evento dedicato ai valori dei fatti nell'era della post-verità. Quelle che sentiamo di solito, e ci sarà James Rennie, ci saranno anch'io e ci saranno sorprese. Allora vi aspetto.